Grande fratello Nikita Pelizzona, non mi piace minimamente Massimiliano Varrese. E adesso vi dedichiamo questa intervista di Nikita Kawazen vincitrice della passata edizione del Grande Fratello che è stata intervistata dal portale di TV Blog in merito a questa edizione del programma, ossia ad un suo personale giudizio su questa edizione, chi le piace, chi non le piace, in generale. Nikita Pelizzona ha svelato che non sta seguendo molto il programma, quindi non riesce a dare un giudizio su tutti, in particolare su Beatrice Luzzi, come molti dei suoi fans le chiedono di fare. Al contrario sempre la stessa Nikita Pelizzon sembra avere un giudizio molto chiaro su Massimiliano Varrese e i suoi comportamenti usati in trasmissione e il suo giudizio sull'attore romano non, è per nulla positivo e lo dice chiaramente. Dice Nikita Pelizzon di Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese Ammetto che ho guardato online due daily. Il punto è che l'ho guardato perché, non avendolo mai guardato prima, volevo capire come funzionava. Sui social, alcuni miei fan insistevano nel chiedermi opinioni su Beatrice Luzzi o mi schierassi da una parte o dall'altra. Però io ho detto in un tweet. Ma come faccio a dare la mia opinione? Per avere un'opinione bisogna star lì, osservare bene, guardare, riflettere, ponderare e poi si dà l'opinione. Ma se io non so i fatti che sono realmente avvenuti come faccio a dirtela? Posso dirti che, guardando un po' il suo linguaggio del corpo, non mi piace minimamente il modo che aveva Massimiliano Varrese. Anche perché avevo visto sui suoi social che fa meditazione, allora mi son detta, magari non è proprio la meditazione quella corretta. È come se stesse uscendo la parte ombra di Varrese. Hai presente quando semini il dubbio, però in maniera furba? Ho notato questo. Magari mi sbaglio, però da quel poco che ho visto, ho visto questo. Se penso che lui faccia strategia. Vedo uno sguardo furbo.